Cambiamenti climatici o biotecnologie o semplicemente il potere della natura. Tant'è che il Tibet ora potrà fare concorrenza ai migliori vigneti italiani o francesi, un vero Guinness dei primati. Qui a 3563 metri sul livello del mare si produce vino come l'Oao Jun di Bernard Darnot, presidente e amministratore delegato di Louis Vuitton, Moet e Shandon. Un rosso d'eccezione come quello di altri viticoltori che hanno investito qui, credendo nella partnership tra Parigi e Pechino. Questo è un segnale molto positivo, ci racconta questo giovane imprenditore transalpino, positivo non solo per il Made in China ma anche per tutti noi. Tutto ciò che facciamo lo facciamo con passione, lo facciamo con la massima precisione per ottenere il miglior vino possibile. La regione autonoma cinese in questione gode di un clima monsonico tipico degli altopiani semiaridi, una viticoltura estrema date le condizioni del tempo che impone attente lavorazioni. In uno dei vigneti tibetani sono piantate circa 11 varietà di uve, prodotti dal sapore aromatico, balsamico, speziato, per palati ricercati e raffinati e per un mercato che richiede sempre qualcosa di nuovo, come sottolinea anche Felix o uno dei sommelier di un noto ristorante parigino. È stata una vera sorpresa per i nostri clienti, ci racconta, quando hanno assaggiato questa bottiglia di vino. La maggior parte ha pensato che fosse un classico Bordeaux, solo alla fine ha scoperto che il vino proveniva dalla Cina e sono tutti rimasti stupefatti dalla qualità in modo positivo. Tutti pazzi dunque per questo vino tibetano, lo Ao Jun, rosso intenso profondo, tra note di cannelle, liquirizia, menta e cedro.